Il 2 giugno torniamo a festeggiarlo come nel 2019 prima del Covid. Siamo felici di riaprire alla cittadinanza questa importantissima festa nazionale della nostra Repubblica in un momento delicato per il nostro Paese, ma per la comunità internazionale, per quello che sta accadendo in Ucraina. Chiediamo che sia presente più persone e più gente possibile, perché è un momento di festa, anche in una bella giornata. Faremo uno sfilamento da Piazza Castello a Viale Roma, con un momento anche di musica del Conservatorio di Vicenza e un momento di premiazione per gli internati della Seconda Guerra Mondiale. La celebrazione del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica, quest'anno, dopo la pausa imposta dalla pandemia, ha una connotazione speciale che punta a ricompattare il Paese, in questo momento difficile dal punto di vista economico e geopolitico. La gestione dello sfilamento è stata affidata al Coespu. Noi, come componente militare, avremo una rappresentanza di un piccolo schieramento, non numeroso, ma molto significativo. Molto folte rappresentanze delle associazioni combattentistiche d'arma, dei diversi comuni, con le rappresentanze dei sindaci, dei gonfaloni, le scolaresche, i corpi armati dello Stato, componenti della protezione civile, croce rossa, quindi diciamo uno schieramento molto ampio. In occasione del 2 giugno 2019 il prefetto lanciò l'hashtag Riprendiamoci Campo Marzo, uno slogan che era già un programma per un obiettivo chiaro. Oggi a due anni di distanza, visti i risultati già conseguiti, l'hashtag potrebbe modificarsi in Stiamo riprendendoci Campo Marzo. Si presta perfettamente, adesso però per riprendercela bisognerà fare in modo tale di vincere l'eventuale pigrizia che ci vuole in un giorno festivo stare a casa, oddio per carità potrebbe esserci anche la voglia di approfittarne per un ponte, ma chi non lo facesse venga in piazza Campo Marzo perché lì ci sarà comunque tutta la Repubblica che è costituita non soltanto da chi sfilerà, da chi parlerà, da chi svolgerà le cerimonie, ma anche da ognuno di noi, ognuno di noi è Repubblica e quindi io chiedo veramente a tutti i vicentini di venire a Campo Marzo.